John Borne ragazzi, John Borne benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora oggi mi sono preso un po' di tempo, ho riguardato un po' la gara di ieri dell'Inter, ho guardato la gara di ieri del Napoli, ma oggi ci interessa relativamente poco perché tanto quello che doveva succedere è successo e la giornata di Champions League è passata agli annali. Con l'Inter che si qualifica agli ottavi di Champions League e sotto questo punto di vista non c'è nulla da constatare o non constatare, è ufficialmente matematica. Come cosa si giocherà nelle ultime due giornate la qualificazione da prima con la Real Sociedad, tra l'altro con il match finale che appunto si gioca a Milano contro la Real, mentre il Milan ritorna in gioco, la Lazio va a seconda e il Napoli dovrebbe passare tranquillamente, però leggermente complica la sua posizione, anche se poi insomma il Napoli è lì e tecnicamente passerà. Però c'è una cosa importante da dire, cioè che ieri la vittoria dell'Inter non porta solo l'Inter agli ottavi di Champions League, che comunque è una cosa molto importante perché entri ufficialmente a far parte del tabellone della Champions League e sapete che quando si parla di tabellone, quando si va a parlare di qualcosa di eliminazione diretta diventa sempre imprevedibile, no? Ma l'Inter si qualifica anche per il nuovo mondiale per club e questa cosa è gasantissima, a me gasa tantissimo e volevo spiegarvela rapidamente in questo video, voglio spiegarvi quello che è successo, voglio spiegarvi anche chi potrebbe prenderne parte di italiana, probabilmente, quasi sicuramente c'è un'altra italiana a prenderne parte, ma andiamo per gradi. Prima di iniziare, se non l'avete già fatto, vi ricordo che siamo arrivati a 495.019 iscritti. Posto che ho come obiettivo rapido quello di arrivare a 500.000 iscritti e chi non si iscrive al canale non arriva a Natale e io a Natale vorrei festeggiare il mezzo milione, vi invito ad iscrivervi anche perché se entro domani arriviamo a 495.500 iscritti vi porto la seconda parte del video del torneo di calcetto che stiamo giocando con la mia squadra. Quindi mi raccomando, visto che me l'avete chiesto in tantissimi, lasciate questa iscrizione che a voi non costa nulla. Detto questo, torniamo a noi. È nato il nuovo Mondiale per Club, ragazzi. L'avete visto, l'avrete visto, l'avete sentito, l'avrete sentito. Non si parlava d'altro per un periodo di tempo. Poi, quando è tornato il calcio, si è ricominciato a parlare di calcio. Però, a mio avviso, a mio modesto parere, il Mondiale per Club potrebbe giocare un ruolo fondamentale anche per le dinamiche del futuro. Cioè, la differenza tra il Mondiale per Club, abbiamo visto fino a questo momento, e quello che diventerà il Mondiale per Club da il 2025, secondo me, è veramente un cambiamento epocale. Ora, io non voglio dire che il Mondiale per Club sarà già più importante della Champions League, perché la Champions League è la competizione più importante del mondo dopo il Mondiale per nazionali in questo momento, a mio avviso. Però, per come viene impostata, per l'idea che gli vogliono dare, e per tutto ciò che, appunto, concerne quello che sarà il Mondiale per Club, vi posso dire che, secondo me, ci sono grosse possibilità che il Mondiale per Club, pian piano, scali le gerarchie e diventi una delle competizioni più importanti del mondo. E adesso ve lo spiego. Premesso che poi hanno fatto quello che io volevo vedere fatto per tutti gli anni, no? Io ero il primo che, quando si parlava dell'Arabia, interessata a prendersi, ad entrare in Champions League, vi dicevo, facciamolo, ma facciamo un Mondiale, facciamo un Mondiale ogni anno, un Mondiale per Club ogni anno, perché potrebbe essere molto divertente. Ecco, il Mondiale per Club è quello. Quando è che nasce? Tra giugno e luglio del 2025, quindi tra metà giugno e metà luglio, come tutti i Mondiali, però non ci saranno né Mondiali né Europei, perché i Mondiali ci saranno nel 2026, gli Europei nel 2024, quindi non quest'estate, l'estate prossima, e si giocherà negli Stati Uniti, lì dove gran parte del Mondiale per Nazioni si disputerà, perché nel 2026 ci sarà il Mondiale e si giocherà negli Stati Uniti, in realtà sono America Unita, perché c'è anche il Messico e c'è anche il Canada, però il Mondiale per Club si giocherà negli Stati Uniti come prova di quello che sarà il Mondiale. Ed è una figata pazzesca, ragazzi. È una figata che è amorosa, perché al suo interno avrà 32 squadre, come un Mondiale vero, come un Mondiale vero, e ci saranno otto gironi da quattro squadre ciascuno, come un Mondiale vero, con le prime due che andranno direttamente agli ottavi, come un Mondiale vero, solo le gare di andata, tutte in America, tutte in un mese, cioè una cosa veramente spettacolare. E come cosa spettacolare, il Mondiale per Club avrà 12 posti su 32 dedicati all'Europa, gli altri 20 saranno spartiti tra Asia, Africa, Sud America, Centro-Nord America e Oceania. Quindi, insomma, è proprio fatto tutto a regola come un Mondiale vero e proprio. Ogni nazione, ve lo dico immediatamente per farvi capire, può prendere al massimo due posti. Cioè, quindi non è che ci saranno cinque inglesi, cinque spagnole, cinque francesi, no, non esiste. Ci possono essere al massimo due squadre per nazione. Quindi, se per dire la Spagna ne porta già due, perché sono le prime due e adesso capiamo anche i metodi, eccetera, di raggiungimento, ve lo dico immediatamente senza farvi, diciamo, nutrire di false speranze, la quinta, la sesta in questo ranking, dove appunto poi dovrebbe subentrare mediante regolamento, non entrerà. Quindi ci sono al massimo due squadre per ogni nazione. Che per me, da una parte, sono indeciso, perché oggettivamente è brutto pensare magari che nelle prime tre posizioni magari di questa speciale classifica che permette di entrare, vengono posizionate per dire Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid perché l'Atletico è terzo, ma davanti c'è due squadre, non può partecipare, nonostante sia davanti a tutte le altre squadre del mondo. Dall'altra parte però, questo rende il mondiale un mondiale. Cioè quindi aiuta a non creare un'egemonia di un paese perché avrebbe poco senso oggettivamente. Cioè se, sappiamo tutti la Premier League avanti, se dovesse accadere appunto che ci dovessero essere cinque, sei inglesi su dodici, avrebbe poco senso secondo me, non sarebbe nemmeno un mondiale. Qual è l'unica possibilità per vedere più di una squadra, di una nazione al mondiale? Ve lo spiego in questo momento. Vi dicevo che l'Europa aveva diritto a dodici posti, ok? Dodici posti per l'esattezza. Di questi dodici posti, quattro posti andranno alle quattro vincitrici della Champions League. Attenzione, il count, e questo è fondamentale, si fermerà a giugno del 2024. Quindi le squadre che devono vincere la Champions League e rientrare nelle quattro sono 23-24, quindi quest'anno, 22-23, quindi Manchester City, 21-22, quindi Real Madrid, 19-20-21, quindi il Chelsea, ok? Quindi, quindi, a giugno scopriremo l'ultima squadra, l'ultimissima squadra facente parte di questa lista. L'ultimissima squadra facente parte delle quattro vincitrici della Champions League. La squadra che vincerà la Coppa Wembley entrerà, a meno che non faccia già parte di queste, entrerà di diritto come quarta squadra. Quindi al momento le uniche che sapevamo certe del posto erano Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Ora, se, se, visto che vedete Manchester City e Chelsea, hanno vinto loro, visto che quest'anno, ad esempio, c'è anche lo United, faccio un esempio, o il Newcastle, mettiamo che lo United dovesse vincere la Champions League. Ecco, in questo, la vedo dura, è appresso pure col Copenhagen, vabbè, ma questa è un'altra storia. In questo contesto qua, possono partecipare più di due squadre, però, però, non tramite il ranking. Cioè, due squadre al massimo, a meno che più di due squadre diverse non abbiano vinto la Champions League nello stesso paese. Quello è l'unico caso, molto difficile secondo me, in cui, perché, insomma, vede tre squadre diverse dello stesso paese vincere in quattro anni la Champions, non penso sia mai successo, non lo so, ma non penso. Cioè, anche, comunque, Barca e Real si sono spesso alternate, in Inghilterra l'hanno vinta tutti, praticamente, però, comunque, tre squadre diverse in quattro anni dello stesso paese non credo sia mai successo, quindi, è praticamente impensabile. Certo, ripeto, se quest'anno dovesse vincerla il Manchester United piuttosto che il Newcastle o l'Arsenal, allora, in quel caso, sì, però è veramente tanto, tanto difficile che questo possa accadere. Ora, detto questo, questa regola vale anche per tutti gli altri paesi, quindi, le quattro vincitrici della Coppa Libertadores ne faranno parte, sono già Fluminense e Flamengo, che tra l'altro la Fluminense l'ha vinta poco fa, il Flamengo e il Palmeiras, tra l'altro tre brasiliane, ecco, come vedete, è successo, non succede mai, però è successo, tre brasiliane, quindi eccole tutte e tre, nessun'altra brasiliana ne farà parte mediante il ranking, a meno che la quarta edizione non venga vinta ancora da un'altra brasiliana è diversa, però, comunque, Palmeiras, Flamengo e Fluminense fanno già parte. Poi, in Asia, Alilal e Uraou Arez, ne mancano ancora due di Coppa e di Champions League che si devono chiudere, in Africa stessa storia, con le qualificate al momento che sono precisamente Alali e Wildard Casablanca e invece in Nord America abbiamo Monterrey, Seattle Sanders e Leone, queste sono le squadre che al momento sono qualificate. A questo punto, però, cerco di spiegarvi una cosetta un po' divertente, ovvero perché l'Inter si è già qualificata. Allora, in questa storia non conta il ranking, non conta il ranking, quel ranking famoso in cui, tra l'altro, la Roma è nonna in classifica, eccetera, in cui ci sono... Non conta il ranking perché il ranking, facente parte delle competizioni europee, prende in considerazione Champions League, Europa League e Conference League. Il Mondiale per Club, invece, prende in considerazione solamente, solo e soltanto la Champions League, solo e soltanto i punti e quindi i progressi fatti in Champions League, ok? Quindi, il ranking sotto questo punto di vista non c'entra nulla. Vi faccio un esempio, la Roma stessa che è altissima e non è in classifica, beh, possiamo stare qui a dire che è giusto o non è giusto, fatemi sapere anzi il vostro punto di vista perché sono molto curioso. La Roma che è non in classifica o decima, non ricordo, comunque entrerebbe nelle squadre facente parte del Mondiale per Club, non c'entrerà perché quella classifica prende in riferimento, prende in considerazione neanche Europa League e Conference League. Se andiamo a prendere solo la Champions League la Roma negli ultimi quattro anni non l'ha praticamente mai fatta, ha fatto un Europa, una Conference, un'altra Europa, ha fatto una semifinale di Europa League, ha vinto la Conference League, ha fatto la finale di Europa League e quest'anno ancora in Europa League, quindi la Roma non entra a far parte di questa lista, contano solamente i punti fatti in Champions League e vi spiego anche, ve lo faccio vedere, con regolamento come tecnicamente subentrano queste situazioni qua. Eccolo qua, due punti per ogni vittoria, un punto per ogni pareggio, cinque punti per la qualificazione agli ottavi di finale e un punto per ogni turno ulteriormente superato. Cioè, quindi in sostanza, ogni squadra che vince fa due punti, ogni squadra che pareggia ne fa uno, ogni squadra che perde non ne fa, ogni squadra che passa agli ottavi ne fa cinque, ogni squadra che va avanti quindi quarti un altro punto, semifinali un altro punto, finale un altro punto, la vince un altro punto. Quindi un punto in base a queste situazioni qua. Però questi sono i punti e così viene calcolato sostanzialmente questo speciale ranking per la UEFA Champions League. E allora a questo punto andiamo un attimo a considerare la situazione e vi spiego a che punto siamo. Mi metto di qua, così vi faccio vedere anche questa classifica speciale e questa che vedete alla mia destra è la classifica ufficiale il ranking della qualificazione al mondiale per club. Allora vi dico una cosa importante. Questi punti tengono in considerazione sia i punti fatti nella prima, seconda, terza e quarta giornata di Champions League ma tengono in considerazione anche chi è già passato. Vi faccio un esempio. L'Inter è già passato matematicamente agli ottavi e quindi i suoi cinque punti li ha già raggiunti. Ok? Se invece per dirvi l'Atletico Madrid è ancora in dubbio vedete c'ha 53 punti l'Atletico Madrid 53 punti non ha ancora raggiunti cinque punti. Poi se dovesse matematicamente passare quindi quando passerà gli verranno aggiunti anche gli altri cinque punti andrà a 58 in base poi anche alle vittorie e pareggie e sconfitte che farà si agglomereranno i punti e in eretto non vedete le squadre non è che sono in eretto le prime tre in grassetto non è che sono in grassetto le prime tre perché le prime tre sono le posizioni che consentono no sono quelle che già matematicamente si sono qualificate perché in ogni caso non c'è possibilità che qualcuno arrivi a fare quei punti cacciando quelle tre a livello matematico quindi Bayer Monaco 97 punti Inter con la vittoria di ieri perché con la vittoria e con la qualificazione ha preso 7 punti 2 per la vittoria e 5 per il passaggio quindi è passata da terza a seconda innanzitutto ma è passata da 65 a 72 e nessuno può più contrastarla il Paris Saint-Germain che non è ancora matematicamente passato e che tra le altre cose ha anche perso con il Milan e rimane a 70 ma Paris per me passerà e quindi poi probabilmente risupererà l'Inter o comunque sarà una lotta punto su punto ecco la differenza in Paris in questo momento di questa classifica è che l'Inter i 5 punti l'ha già preso e il Paris no quindi è per quello che l'Inter in questo momento è sopra poi che c'è poi c'è il Porto a 59 il Borussia Dortmund a 59 il Lipsi a 59 l'Atletico Madrid a 53 il Benfica a 49 il Barcellona a 48 la Juventus a 47 il Siviglia a 42 il Salisburgo a 39 l'Ajax a 39 il Milan a 39 e il Napoli a 34 allora a questo punto sorge un dubbio una domanda spontanea sicca ma perché la Juventus e l'Ajax hanno l'asterisco perché sono le due squadre che quest'anno non stanno disputando la Champions League l'Ajax non sta disputando la Champions League se non sbaglio vero 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 no non credo però non dovrebbero stare a disputare fammi controllare per sicurezza no c'è il PSV quest'anno non c'è l'Ajax volevo controllare per evitare di dire stronzate ok giusto sono le due squadre che non hanno non stanno disputando la UEFA Champions League in quanto non stanno disputando la UEFA Champions League Juventus chiuderà 47 punti l'Ajax chiuderà 39 quelle sono già squadre che il loro blocco punti negli ultimi 4 anni in Champions l'hanno già fatti quindi non avremo ulteriori punti la Juventus può sperare di entrare in questo mondiale per club sì in questo momento anzi la Juventus è la favorita tra le italiane non è che c'è una staffa forza italiana però guardando la classifica ce ne saranno almeno due ed è la favorita per entrare perché perché c'ha ben 8 punti in più del Milan e una marea esattamente 13 punti in più del Napoli quindi bisognerebbe vedere queste squadre italiane overperformare per superare la Juventus la differenza è che Milan e Napoli sono ancora in corsa mentre la Juventus non lo è ora facendo un calcolo su quello che potrebbe essere il percorso di Milan e di Napoli allora mettiamo conto che il Napoli perda con Real Madrid e vinca l'ultima quindi il Napoli fa ulteriori due punti va a 36 poi passa il turno quindi prende 5 punti va a 41 a questo punto avrebbe praticamente una mission una mission impossible per superare la Juventus perché dovrebbe fare 6 punti però in quel frangente lì ogni vittoria sono due punti ogni passaggio di turno è un punto cioè quindi il Napoli dovrebbe vincere andata e ritorno dell'ottavo di finale e sarebbe comunque a meno 2 passare quindi il turno e andrebbe a meno 1 e poi ottenere almeno una vittoria ai quarti di finale è molto molto difficile è diverso il discorso del Milan perché il Milan c'ha 39 punti affronta Dortmund e Newcastle mettiamo anche che faccia due vittorie c'è una vittoria e un pareggio andrebbe comunque a 42 punti passando il turno poi andrebbe a 47 quindi gli basterebbe fare solo un pareggio tra andata e ritorno agli ottavi di finale per scalzare la Juventus dal mondiale per club ecco il Milan è molto più probabile che ci riesca anche grazie alla vittoria contro il Paris Saint Germain diciamo che comunque la situazione è molto più semplice appunto per il Milan però non è detto quindi l'Inter passerà e poi una tra Milan e Juventus ora notate una cosa importante guardate vi faccio l'esempio dell'Atletico Madrid e del Barcellona in questa classifica il Barcellona è nono anzi facciamo un esempio ancora più bello facciamo tutte e due il Barcellona è nono in classifica 48 punti l'Atletico Madrid ne ha 53 ora qual è il problema il problema è che l'Atletico Madrid è spagnola e un'altra spagnola il Real Madrid si è già qualificata quindi Real Madrid e Atletico Madrid finisse oggi andrebbero a fare il mondiale per club vi ricordo che l'anno 24-25 non si conterà ma farà riferimento al prossimo mondiale per club il count si ferma 365 giorni prima per dare un'ufficialità della lista delle squadre che parteciperanno quindi Atletico Madrid e Real andrebbero a qualificarsi il Barcellona nonostante fosse nono in realtà vi ricordo che quattro squadre partiranno dalla Champions ma poi altre otto verranno prese dal ranking quindi insomma c'è molta possibilità che una delle prime nove vinca quest'anno la Champions League quindi o che la rivinca una squadra l'ha già vinta quindi insomma sempre questa lista viene presa in riferimento considerando questo questo fattore qua il Barcellona sarebbe escluso perché tu puoi andare massimo con due squadre faccio un esempio ancora più lampante nei primi sei posti ci sono tre squadre tedesche Bayern Monaco ovviamente non contano i punti le squadre già qualificate perché non ha alcun senso andare qua a contare i punti del Manchester City o del Chelsea o di qualunque altra squadra quindi Bayern Monaco Borussia Dortmund e Lipsia ora sono a pari punti mettiamo conto che il Dortmund abbia un punto in più dell'Lipsia anche se non ce l'ha no? ecco mettiamo conto questa cosa qui anche perché il Lipsia ha già considerato i punti del passaggio del turno e il Borussia Dortmund no poi non è detto che passi però questo è già successo quindi in questo momento Bayern Monaco e Borussia facciamo così andrebbero a giocarsi il mondiale per club e Lipsia che è sesto quindi è sesto tra le squadre su 8-9 che parteciperà non andrebbe perché due squadre tedesche al massimo possono andare ora considerando quello che Voppen ha detto quali squadre andrebbero oggi oggi se si fermasse il count queste qua alla fine se si concludesse oggi le 12 europee sarebbero Real Madrid Atletico Madrid per la Spagna Manchester City e Chelsea come inglesi Bayern Monaco e Borussia Dortmund per la Germania dunque il Paris Saint Germain rappresentare la Francia il Portogallo porterebbe Porto e Benfica mentre la nostra Italia avrebbe Inter e Juventus sempre però considerando quello che ho detto in precedenza col discorso del Milan quindi questo va visto ma in realtà un po' per tutte poi di seguito l'ultimo posto sarebbe destinato alla vincitrice della Champions League della stagione in corso che se facesse parte di quelle già nominate quindi sia di quelle che hanno vinto la Champions sia delle squadre nominate sopra allora farebbe subentrare il Salisburgo che è la prima squadra di una nazione che non sia Inghilterra Francia Spagna Germania e Portogallo appunto a disposizione in realtà non c'è nemmeno una francese in questa lista iniziale perché sennò avrebbe fatto compagnia al Paris Saint Germain che è l'unica delle prime sei nazioni a portarne una e non due proprio perché un'altra francese non c'è visto che il Paris è l'unica squadra francese che è un minimo diciamo fastidiosa a livello europeo un minimo competitiva ragazzi questo è tutto quindi l'Inter farà il mondiale per club fatemi sapere la vostra grazie per aver visto questo video vi lascio tantissimi mi piace iscrivervi al canale boccia all'allene come sempre ciao a un prossimo video ciao a un prossimo video